Buonasera e raccolgo volentieri l'invito dell'amica Mariangela per questa iniziativa. Io non ho purtroppo ricordi familiari o comunque tramandati da parenti, però posso adesso consigliarvi un libro di un carissimo amico che si chiama Ugo Foa, che lui è nato nel 1928 a Napoli e abbiamo modo fortunatamente di passare ancora molto tempo insieme e ha scritto questo libro appunto molto interessante che consiglio a tutti di leggere e che si chiama Il bambino che non poteva andare a scuola. È la sua storia, la sua testimonianza quando appunto c'è stata l'emanazione delle leggi razziali e lui continua da anni, da tantissimi anni, ad andare in tutte le scuole per portare appunto i suoi ricordi, la sua storia e insomma questi momenti che ha vissuto. Proprio stamattina io a scuola ho fatto vedere uno stralcio di una sua intervista alla biblioteca di Roma, forse di un paio d'anni fa, dove appunto lui viene intervistato e racconta molto bene la sua esperienza. Non posso quindi far altro che pensare a lui, alla grande forza che ha e alla grandissima energia ancora che ha, nonostante insomma la sua età e alla sua voglia di continuare ad andare a raccontare questo nelle scuole perché come ha detto stamattina, visto che lui ha perso questi anni proprio perché non gli è stato più possibile frequentare le scuole proprio per l'emanazione delle leggi razziali, tutte le volte che lui passa qualche ora nelle scuole assieme a questi ragazzi è come se recuperasse un po' di quel tempo che gli era stato sottratto, quindi io credo che il suo insegnamento e il suo ricordare e il suo continuare a far ricordare e riflettere anche gli altri sia una delle cose più importanti non solo per domani ma che deve essere sempre presente. Grazie, grazie a tutti.